lui 23 ha girato il suo film tra sogno e realtà ripeto giovane talentuoso scopre il suo film tra sogno e realtà ripeto giovane talentuoso scopre il suo film tra sogno e realtà ripeto giovane talentuoso scopre il suo film tra sogno e realtà ripeto giovane talentuoso scopre il suo film tra sogno e realtà ripeto giovane talentuoso scopre il suo film tra sogno e realtà ripeto giovane talentuoso scopre